Buongiorno, buona domenica, buona domenica a tutte, come state, come state? Spero tutto bene, buona domenica. Siamo qua per un argomento interessante, la miglior cosa da fare se lui non ti cerca e il valore che ci rende irresistibile. Oggi siamo alla seconda parte, parleremo di questo atteggiamento di alto valore che lo porta a cercarti piuttosto che esser tu a cercare lui. Quando questa persona a cui tiene molto non ti cerca, tu cosa fai? In genere soffri, ti zerbini, ti dai poco valore, ti annulli come persona, la tua autostima va sottoterra. In realtà cosa guadagni? Guadagni ben poco. E oggi parleremo proprio di questo, torneremo a parlare di questo, di questi atteggiamenti di alto valore che ci permette di essere apprezzati, cercati quindi da questa persona che in questo momento sembra disinteressarsi. Quindi l'altra cosa che andremo a discutere oggi è questa qua, non mettere in pausa la tua vita. Una persona che ha un valore, perché quando tu ti riconosci un valore è più semplice, è più semplice che tu venga cercata e noi cerchiamo nella nostra vita persone che apportino valore. Un'altra cosa è quella di non metterci in attesa. A volte vi sarà capitato di conoscere delle persone e in questa fase iniziale voi vi accorgete che questa persona sembra non aver tempo a sufficienza per voi. Naturalmente tende a giustificarlo dicendo, no, questo è un momento un po' complicato, sono impegnato con il lavoro, devo occuparmi dei miei genitori, no, ci sono diverse scuse, ma la sostanza poi è la stessa. Ovvero vi parcheggia un po', no, questa persona vi mette in attesa. E l'idea che dovreste farvi è la seguente. Non dovreste rinunciare alla vostra vita, quindi non dovreste rinunciare ai vostri progetti, non dovreste rimanere a casa in attesa che questa persona vi chiami. Perché? Perché quando tu hai una vita che ti piace, la persona che si propone, che dovrebbe star con te o che vorrebbe star con te, dovrebbe mostrare un interesse, dovrebbe apportare più valore di quello che è già. E invece a volte accade proprio il contrario, accade che conosciamo delle persone e queste persone potrebbero farlo per disinteresse, potrebbero farlo perché gli piace essere desiderati, potrebbero farlo perché è un'abitudine che loro hanno. Però sono persone che pensano, pensano, che voi siate là a loro disposizione. Quindi quando vi mettono in modalità stand-by, l'invito è quello di non accettare, perché voi siete le persone più importanti della vostra vita, perché il vostro tempo è qualcosa di estremamente prezioso. L'altro punto che voglio trattare con voi è stabilire i limiti, che siano i nostri o i suoi limiti. Sei tu che stabilisci il prezzo di quello che vali, non sono gli altri che lo stabiliscono, non sei tu. Naturalmente a questo prezzo che tu ti dai, tu ci devi credere, altrimenti agli occhi degli altri poi perdi di valore. E quindi per stabilire una marca noi stabiliremo semplicemente dei parametri, in base a quale non vorremmo vivere la nostra relazione. E la cosa bella e cosa importante di stabilire dei parametri è che noi non ci rinunciamo a quello che abbiamo deciso nemmeno a costo di perdere la persona, quindi di rimetterci la relazione. In uno stato di serenità, in cui ci troviamo magari fuori dal rapporto, dovremmo stabilire quelle che sono le nostre linee guida, i nostri limiti e rispettarli quando entriamo invece in un rapporto ed emotivamente siamo instabili, ci sentiamo un po' sconvolti, perché in un rapporto tu vivi delle emozioni e quando tu vivi delle emozioni sei facilmente manipolabile e suscettibile. Quindi la cosa più importante che voi noi dovremmo fare è considerarci persone manipolabili, siamo tutti manipolabili. Se partite da questa consapevolezza che vi mettete in discussione, dite ok sono manipolabile, come potrebbero manipolarmi, come lo stanno facendo, allora in quel caso potete osservare come le persone lo fanno con voi. Però ecco, il punto è questo, stabilite i vostri limiti nel momento in cui siete lucidi o lucide, perché in caso di emozioni forti dovute alla relazione sapreste quale linea eseguire. Allo stesso modo, un'altra cosa che succede quando una persona di alto valore sbaglia, non è che penso che io sono al di sopra degli altri, al di sopra della legge, al di sopra di tutto e quindi il mio orgoglio è così grande da impedirmi di chiedere scusa. No. Perché se tu sai di essere di valore, sai anche che come essere umano puoi sbagliare e sai anche riconoscere un errore. E l'altro punto era questo qua, non temere il segno che lasciano le altre persone, ok? Una cosa che tu fai quando ti dai questo valore come persona è non preoccuparti di quello che è stato, quello che è stato nelle relazioni in precedenza. Se tu sai che sei una persona che fa la differenza nella vita degli altri, sai che quello che apporterai nella vita di una persona o in una parte di quella vita della persona segnerà un prima o un dopo. Quando tu stai bene, quando tu stai sereno, sei centrato, sei guidato da valori, guidato da valori, farà la differenza. Per loro ci sarà un prima o un dopo nella loro vita. E per questo motivo anche quando tu chiudi il rapporto lo farai con la consapevolezza che stai seguendo la tua linea, i tuoi valori, i tuoi standard e non ti domandi ma a questa persona io mancherò. Non ci pensi, non ci pensi perché sei consapevole che nel momento in cui tu ci sei stato per qualcosa, per il valore che ti ha portato, per l'equilibrio, la serenità, tu per quella persona hai fatto la differenza. È come dire, quando avevo vent'anni sapevo che quella determinata maglietta o quel determinato pantalone era perfetto per me. E quel pantalone, quando l'ho indossato, faceva una differenza. Mi piacevo e piacevo tantissimo. A 45 anni quel pantalone e quella maglietta mi starebbero forse un po' stretti e non ci sentirei più nemmeno tanto comodo. Quindi mi trovo in un'altra tappa della mia vita e ho bisogno di un pantalone differente, di una maglietta differente. La stessa cosa vale non nella relazione. Quando noi entriamo nella nostra vita, nella vita di qualcuno a 20 anni, ad esempio, noi rappresentiamo quel pantalone e quella maglietta in particolare che per quel momento sono importantissimi, fanno una differenza, potrebbero portare questo uomo, questa donna a sentirsi più sicuro, più sereno, perché ci siamo stati noi. Poi la vita magari ti separa e tu sai che però in quel momento tu hai fatto una grande differenza per quella persona, quindi sai che avrà un bel ricordo di te. Un'altra cosa che è molto importante, ed è l'ultima, è fidarvi di voi stessi. Viviamo in una società che tende a mettere in dubbio quello che noi crediamo, che fin dalle scuole concentra i nostri studi e i nostri interessi su ciò che è esterno alla nostra vita, invece di occuparci della nostra anima, ad esempio, e invece quello che io vi invito a fare è legarvi un po' con la vostra essenza. Le persone di alto valore sono persone che quindi vengono cercate, sono persone che sono legate alla loro autostima, sono persone che si prendono cura di se stesse, che si rispettano, che si proteggono, che si migliorarsi. E non lo fanno per piacere di più agli altri, ma lo fanno per piacere a se stessi e si occupano di una crescita personale. E quando voi cominciate a capire quanto poteri, quanta sicurezza vi derivi dall'ascoltare, ad avere questo atteggiamento molto centrato, molto sicuro e se lavorate per averlo, vi sentirete bene. Io credo che sia importante sperimentare, per conoscersi, per capire se le nostre intenzioni, se i nostri valori, se il nostro credo, se le nostre scelte siano giuste. Consapevoli che però, e in questo sbaglieremo, però è il modo migliore per trovare la vostra, la vostra vita, la vostra strada. Se non l'applichiamo alle relazioni, se incontri qualcuno, sei single, hai una relazione, se non andata bene, perfetto, lo supero, lo supero. Perché? Perché io con me sto bene, so che soffrirò, non è che non soffro in una relazione, soffro sicuramente, però so che lo potrò superare, perché con me sto bene. Quindi sei tu che attrai le persone, ma le attrai per la persona che sei, per l'essenza che hai. È per questo che le persone vi cercano. Vi cercano quando voi apportate valore alla vita. E se lui non ti cerca, se quest'uomo non ti cerca, l'unica cosa che noi dovremmo fare è questa, occuparci di noi, occuparci di noi stessi. Io vi ringrazio. Ragazzi, grazie, 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 grazie mille per essere state qua. Per me è sempre un piacere, è un grandissimo onore che voi mi regalate il vostro tempo. Ci vediamo prossimamente, presto, sicuramente. Vediamo, come ho detto, se giovedì faccio una diretta o va un video. Comunque grazie. Noi ci vediamo presto.